La battaglia di Punta Stilo, combattuta nelle acque dello Ionio il 9 luglio 1940 tra la Regia Marina e la Royal Navy, fu lo scontro di superficie di più grandi dimensioni combattuto nell'emisfero occidentale durante la Seconda Guerra Mondiale. Le due squadre avversarie erano in mare per due distinte missioni di scorta convogli. Una volta accertata la pericolosa vicinanza britannica alle coste nazionali, la flotta italiana accettò di dare battaglia. Lo scontro vide una prima schermaglia tra i rispettivi gruppi esploranti di incrociatori, seguito poi da una fase principale combattuta tra le corazzate e una finale con protagonisti incrociatori e cacciatori petiniere. Assieme agli autori del libro Quando tuonano i grossi calibri, abbiamo approfondito la dinamica della battaglia in una live dedicata, nella quale sono emersi elementi inediti ed una lettura della battaglia molto interessante.